Mmm Vuole andare a mangiare il pesce ma tu non c'è una lira Ci sto io 5 euro di mazzancolle 1,50 euro di carciofi 2 euro di pasta Hai capito? Aglio, olio Sale La mentuccia L'acqua E copri con la carta Ci saranno morbidissimi Leva il carapace Devi pure l'intestino Guarda che meraviglia Tentra la capoccia ci sta il gusto della mazzancolla Schiacciali Così beva l'aglio, mescola tutto e ora butti i tonnelli tutte le mazzancolle e spegno il fuoco rita un po' di mentuccia fresca e ora riaccendi il fuoco un po' d'acqua un po' di pe nero cuccia tritata un goccio d'olio Valla bella in sapore qua dentro assaggia The sound of love mamma mia